Buongiorno amici di Ok il tetto è giusto, oggi siamo a Meda, famiglia Ronchetti, una cascina di proprietà dal 1837, vi facciamo vedere una parte di tetto su cui stiamo lavorando, in cui stiamo installando lastre di fibrocemento e sovrapposte coppi, in una situazione quindi conservativa, una parte in cui abbiamo già provveduto alla stessa lavorazione e al ripasso di tutti i coppi, di tutto il tetto e l'installazione di questa nuova cannafumaria.